Uso del defibrillatore, rianimazione cardiopolmonare, operazioni semplici che se necessarie potrebbero salvare vite. Questo è il messaggio insieme alla necessaria formazione che è stato lanciato nel Defibrillation Day che si è svolto a Ponte Cagnano-Faiano. Innanzitutto il messaggio deve essere che non è necessario una formazione specifica per poter utilizzare il defibrillatore. Basterebbero poche nozioni con tre semplici passaggi che è quello del riconoscimento della persona, chiamare aiuto e utilizzare il defibrillatore. È chiaro che la formazione comunque è un passaggio molto importante dove si può vedere più nello specifico e più nei dettagli quali sono i particolari dell'utilizzo del defibrillatore. L'abilitazione dell'utilizzo del defibrillatore, cioè il corso di BLSD, è un corso che dura 5 ore, viene certificato da associazioni del campo. Ha una validità di due anni, dopo due anni c'è bisogno di un retraining che aumenta la scadenza dell'attestato stesso per un altro anno. Il tempo di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio è un elemento fondamentale. Pochi minuti sono il limite che intercorre tra la vita e la morte, ma è necessario conoscere le lezioni base, le pratiche da usare e come effettuarle. Il Defibrillation Day è un evento nazionale promosso da Ampas che prevede l'illustrazione delle tre tecniche, le tre mosse per salvare la vita, cioè l'allestamento dei soccorsi del 118, l'uso del defibrillatore e le tecniche di rianimazione. Il tutto per far capire alla popolazione che bastano 5 minuti per salvare la vita delle persone.